Eccoci e bentornati sul mio canale! Riprendiamo con Max e riprendiamo con Fenix, nostro fratello che finalmente l'abbiamo trovato e dobbiamo trovare un modo più che altro per aprire la gabbia. Ora la cosa rognosa è che avremo questa cacchio di gabbia da incollarci finché non troviamo un modo per aprirla. Mamma mia c'è... Aspetta, aspetta! Aspetta! Mamma mia! E ho capito, aspetta un attimo, non vedi che pure io sto un casinato? Un altro po' mi ammazzo per stare a te. Aspetta che... Troppo basso. Aspetta, aspetta che mo' avremo il mondo dietro, ci seguirà il mondo. Dai, vieni, ce la fai? Vieni da me, su, andiamo. Vi ho un tanto controllo che cosa si può fare. Si può attaccare la palla, vediamo un po'. E la palla si può ancorare. Aspetta, eh. Vieni qua. Perfetto. No! Mannaggia la miseria della palla! Mannaggia la miseria della palla. A posto, vai. Aspetta, eh. Uno, due. E che cacchio? A posto. Ma io che dite, posso saltare oppure no? E ho capito! E vabbè. Che cacchio, per vedere dove andava a finire la palla. Ciamè, mannaggia. Fenix, ma te ne potevi stando stavi? Me sta a fa' matti, me sta a fa'. Ok. Arrivo, arrivo. Che sta succede qua? Eh, sorry, in parte scatole. Vai! Andiamo a vedere, andiamo a finire. Guardate, dove stiamo. Mannaggia la miseria. Allora. Dobbiamo fare una specie di... Così, è buono. E poi così andiamo di là. Allora. Sei pronto? Sei pronto? Non te spaventare, eh. Piano, piano. Piano, piano. Vai! Benissimo, è andata. Porco cane! Che rogna sta cosa della gabbia. Adesso. Corda. Però non ci arriva. Non ci arriva. E... Così. Aspetta. Così. Ci dovrebbe andare. Un'unica cosa sta pensando la cosa. Come facciamo a farcela arrivare? Allora. Fermate qua. Ci arriva però. Scia la miseria. Aspetta. Come percorso... Come percorso... Ah, come percorso se lo spara tutto. Se lo spara tutto. No, no. De qua. Così cade e muore. Sto pensato. Ok. Sto pensato. Sto pensato. Ragazzi. No. Così. Perfetto. E poi una volta che l'ho tirata su... Là l'attacchiamo... No, no, no. De qua. L'attacchiamo... Alla corda. Ok. Presa? Benissimo. 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 Taglia. Ok. Vai. A posto. Oh, ci dobbiamo pensare a noi però. Dobbiamo pensare un po' a noi. No. Vai così. Pronti? No. Troppo distante. Aspetta che salgo un po' pure io. Vai. Due. Tre. Presa. Ok. Ok. Ma ha fatto comunque tutto senza il potere blu. A capire a che cacchio ci serviva. Ah. Forse ci serve adesso per... Per spingere la palla. Ok. E fammi sali pure a me. Se no qua. Fenix. Come cacchio fa? Uh. Questa statua... Con un mare di lava. Allora. La palla l'abbiamo presa. Che cacchio dovrò mai fa? La cosa... Non la capisco sinceramente. Allora. 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 Sto pensando. Uno. O lo devo tagliare e farlo attaccare a... Ah. Ok. Aspetta. Aspetta. Bene. Così. Staccate. Arriverà mai là? Sì. Ok. E non vedo. E non vedo dove cacchio dobbiamo andare. E non vedo. Senza Max. E poi l'ultima se dice Max. Ok. Allora. 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 Vai di là. E ti attacco là. Così. Questa la stacco. Si è attaccato. Sì. Allora. Andiamo pure noi. Ok. Andiamo. Piano. Piano. Penso che dove andate là pure io. Oppure no. Aspettate va. Prendiamola. Così. Vai. Vai. Perfetto. Scendi. Mamma mia. Che rugne ragazzi. Che rugne. Mamma. Ma in mezzo alla lava. Quindi facciamola. Così. Questa. Che c'è facciamo? Mai. Vai. 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 Scendi. Scendi. No. Stava andando tanto bene. Stava andando. Mannaggia. Voi. Este cacchio. De corde. Bene. Allora. Vi direi che. Queste qua. A sinistra. Le possiamo lasciare lui. No. Perché se. Se brucia. Ecco perché. M'ho capito. Vai. Perfetto. Quindi secondo me. Tutte quelle a sinistra. A destra. Se le deve fa Fenix. A posto. E taglia. Andiamo. E noi invece. Ci dobbiamo fare come. I poveracci. O meglio. Sì. Non tanto come poveracci. Ma. Proprio. I più sfigati. Quelli con. La lava. Allora. Allora. Qua se potrà attaccare qualcosa. Porcacchio. Se noi. La facciamo. Piano. Piano. Non ci possa andare. Non so se qua a destra. Messe. Messe attacca. Ma lo vediamo. Non può. Sì. Pure no. Che ho trovato. Guarda che fortuna. 17 di 75. Allora. Qua. C'è sta un'altra corda. Che la attacchiamo. E io mi attacco a questa. Vai. 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 Eh. Molte voglio. Ce la fa attaccate. Sì. Grande. Taglia. Ok. Andiamo giù. Andiamo giù. Molto bene. Molto bene. Un cacchio. Vai. Perfetto. Manca un altro. Benissimo. Aspetta. 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 Forse ci siamo riusciti. Bene. Taglia. No. Sono scivolato io. Che cacchio. Che cacchio. Era andata da paura. Era andata. Era andata da paura. Ragazzi. Mo' ditemi te no. Era andata da paura. Cacchio. No. Ho sbagliato. Eh. Lo so. Pardon. Pardon. Era andato molto bene. Era andato. proprio un numero vero. Numero vero per noi. Aspetta. Vai da là. No. Troppo corta. Troppo. Aspetta. C'è la faia. Oh. Cacchio. È rimasta qua ancorata. Vai. Così. E taglia. Adesso. Noi rifacciamo il giochetto di prima. Aspetta. Vai. 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 Presa. E passa di qua. Ok. Ora. Caliamo. Con la fune. Via. Giù. 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 E rifacciamo il giochetto di prima. Benissimo. Aspetta che pure io mi devo attaccare a questa qua. Questa la tagliamo. Ok. Ok. Bene. Aspetta che riuscigliamo tutti. Bam. Bam. Aspetta. Adesso non devo sbagliare. Perfetto. Taglia. E taglia. Uuuuh. E' andata ragazzi. E' andata. Ce l'abbiamo fatta anche in questo frangente. Non riesco a capire. Ora dove dobbiamo andare. Ok. Vai. Penso lì sopra. Usiamo la. La sfera. No. Non ci arriverò mai. Mi sembra. Troppo corta sinceramente. No. Forse perché ne vado a sbattere là. Aspetta. Se vieni un po' più di qua. Vieni, 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 vieni. No. Ok. Bene. Dai. Dobbiamo alzare questo. Un altro pochetto. Un altro pochetto. Voilà. E' andata. Aia. Aia. Così. No, troppo. Non mi piace. Così. A posto. E io come ce faccio ad andare là? Ma vediamo un po'. A posto. Benissimo. Molte voglio. Molte voglio. Ando vai? Non scappare. Vieni, mori, va. Io come faccio ad andare là? Non ce posso andare. Quindi la mia unica scelta è andare di là. Via. Fantastico. Che bello sto livello comunque. Inizialmente mi stava da belle rogne. Ma adesso mi sta piacendo sempre più. Guarda che cos'è. Ok, questo ce lo porta su. Perfetto. E io dove passo però? Dove passo io, cari ragazzi? Come fa? Dovrebbe passarmi di là. Che cacchio. Ah, lo devo fare tipo più oscillato. Tipo che fai in obbligo così. Perfetto. Ok. Così ci apre anche a noi. Proseguiamo. Bellissimo sto pezzo. Fantastico. Andiamo, andiamo. Andiamo, fratellino. Più che altro ci avrà un giramento di testa. Non indifferente, eh. No? Che dite? Ok. Dove siamo andati a finire adesso? No! Chi è che sta a tirare le bombe? Che cacchio. Così. No. Che, che, cavolo. Come faccio a lanciarle? No. Che cacchio. Scusa. Ci arrivi là? Aspetta. Facciamolo così. Così. Vai. No. No. Che cacchio. Faccia la miseria. Non riesco a lanciarlo bene. Sta troppo... Ma che è sto cacchio di cosa qua? Non può... No. Così me mi è uscilla troppo. Devo riuscire... A chiappa il tronco. Eh, uh. Ma mi vuoi lasciare in pace? Oppure no? Cacchio. È difficilissimo riuscire a prendere il tronco. Penso che... Sia questa lo... La... La... Strada migliore. Aspetta, voglio provare un tentativo e poi... Poi andiamo. Via. Via, 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 via. Tacchio. Bomba, bomba, bomba. Bam. Ok. Facciamo una cosa ragazzi. Ci fermiamo qui sotto l'assedio delle bombe. E ci vediamo nel prossimo video insieme a Max. Insieme a Fenix e a Max. The Courts of Brotherhood.